ciao giovani e benvenuti o bentornati sul canale di comic society sempre qui dal vostro steve oggi siamo qui per un unboxone un video acquisti bello massiccio inizialmente volevo farlo diviso in due video poi ho detto ma no dai facciamone uno solo bello corposo bello cicciotto gli acquisti riguardano gli sconti panini gli sconti di quest'anno 2024 ci ho dato un po' dentro bisogna essere onesti ma diciamo che è un investimento per il canale per il futuro del canale perché voglio parlarvi sempre di più di qualcosa in particolare che per l'appunto vedrete poi qua negli acquisti come al solito le piccole raccomandazioni iniziali ovvero che il vostro supporto per questi video è fondamentale youtube fa girare molto di più i video con le interazioni quindi mi raccomando like commenti condivisioni dateci dentro se volete che i video girino più possibile e il canale cresca insieme a noi se siete nuovi arrivati benvenuti vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati in più vi ricordo che se volete fare i vostri acquisti e supportarmi potete farli sul sito gicoshop.it trovate il link in bio e inserire comic society nel codice dell'ordine per avere 5% di sconto e per appunto supportarmi detto questo come sempre questo è un video acquisti quindi non vado nella profondità dei fumetti ma li ve li mostrerò un po' in generale ve ne parlerò un po' in generale ma sono tutti fumetti che devo ancora leggere quindi ancora non posso parlarvi nello specifico quindi bando alle cianci qui di fianco vedete un po' di spoiler ma purtroppo non so dove mettermi perché sono veramente tanti quindi ho dovuto attrezzare un tavolino e mettere tutti qua di fianco andiamo a vedere tutti gli acquisti che ho fatto con gli sconti panini partiamo come ormai è tradizione dai manga perché sono sempre più piccolini quindi ce li ho sempre più vicini manga non ho preso moltissimo c'erano diverse cose che volevo prendere diverse cose che volevo recuperare ma come vi dicevo ho fatto sono andato un po' più sul focus di un altro tipo di logica di prodotto e quindi con i manga sono rimasto un po' più indietro per forza di cose verosordivi ho giusto recuperato un paio di volumi che mi ero perso lungo la strada ovvero l'ultimo volume di full metal alchemist la ultimate deluxe edition il volume per il ventesimo anniversario sempre di full metal alchemist poi il volume con diverse altre storie riguardanti 20 century boys di naoki urasawa e l'ultimo volume in realtà è il 21st 21st century boys sempre di naoki urasawa che va a completare questa ultimate deluxe edition di 20 century boys questi non ve li racconto li ho già letti perché è stato solo un cambio edizione però due serie secondo me assolutamente imprescindibili due veri e propri capolavori del manga tanto è vero che appunto avevo le vecchie edizioni e ho fatto il cambio con queste deluxe edition che mi terrò poi probabilmente per sempre adesso poi vediamo ma di solito è così andando avanti per quanto riguarda i manga invece ho fatto un recuperone che volevo fare da diverso tempo ovvero mi sono recuperato tutto soil quindi gli undici numeri se non mi ricordo male esatto l'uno se l'avevo già perché l'avevo preso era nel bundle con evil c'era l'uno variant quindi l'uno lo avevo già ho preso gli altri dieci numeri che completano la serie questa serie di azuchi canneco che ero molto molto curioso di leggere già da tempo era tantissimo che ci giravo intorno quando ho visto che era tutta in offerta per quanto riguarda gli sconti panini e che alla fine è scontata essendo solo dieci numeri undici totali non veniva a costare tantissimo molto bene questa però la recuperiamo sono molto molto curioso perché il modo in cui racconta azuchi canneco e soprattutto il suo tratto grafico per me è molto particolare molto intrigante già sulla storia di genova in questo momento mentre sto registrando il video io sono al quarto volume ed è un completo mindfuck non ho la minima idea di dove andare a parlare questa serie sono molto molto curioso ve ne parlerò poi su questi lì e anche su tutti gli altri social appena la finirò per quanto riguarda i manga abbiamo finito non ho preso nient'altro come vi dicevo mi sono concentrato tutto sul fumetto americano iniziamo quindi con alcuni volumi prima di tutto ho recuperato uno dei pochi grandi tesori marvel che mi mancava ovvero Submariner l'ho recuperato perché ho praticamente tutto quello che riguarda i grandi tesori marvel ma soprattutto ho praticamente tutto quello che riguarda Esad Ribic ha i disegni quindi quando questo qui era uno di quelli che mi mancava ve lo faccio vedere al volo e non potevo non recuperarlo perché quando c'è Ribic ha i disegni io non posso esimermi adesso lo vedete un po' piccolo perché è veramente grande il formato però questo qua è uno dei pochi grandi tesori che mi mancava e finché è disponibile vi ricordo che i grandi tesori purtroppo una volta finiti vanno non vengono più ristampati e quindi se c'è qualcosa che vi manca mi raccomando recuperatevelo perché poi dopo una volta esauriti non tornano più e quindi recuperone Submariner Abissi mi raccomando grandi tesori tenetoli d'occhio perché sono sempre dei capolavori andando poi ai volumi un po' più corposi ho recuperato Top Ten Compendium che è il volume che raccoglie tutte le storie side che riguardano Top Ten Top Ten serie di Alan Moore serie che io ho apprezzato particolarmente che parla di questa specie di squadra di polizia che deve tenere sotto controllo questa città multiversale alla scrittura qui abbiamo una pletora di diversi team creativi che per l'appunto fanno delle storie side delle storie che vanno a completare l'universo narrativo creato nel primo volume da Alan Moore e se non mi è piaciuto molto il primo volume ho deciso di recuperare anche questo volume con tutte le varie storie che vanno a completare poi la serie e così ce l'ho tutta bella completa bel volumone cartonato abbastanza grosso questo qua costa 46 euro per l'appunto in sconto conveniva molto quindi Top Ten Compendium da poi abbinare a Top Ten e nel caso voi ce l'aviate già o se no prendete prima Top Ten e poi prendete Compendium mi raccomando andiamo avanti coi volumi normali e andiamo avanti sempre per quanto riguarda Alan Moore mi ero perso lungo la strada i due volumi di Tom Strong che ho prontamente recuperato anche qui abbiamo una serie che apparentemente risulta non la conosco se devo essere sincero una serie che teoricamente va a un po' ricalcare il classico supereroistico ma sappiamo che quando c'è di mezzo Alan Moore nulla è ovviamente come sembra sono molto curioso di leggermi questa storia perché veramente non so cosa aspettarmi l'ho recuperata un po' a scatola chiusa nel senso che sapendo che era di Alan Moore io l'ho recuperata senza informarmi più di tanto semplicemente voglio leggermela e farmi sorprendere da quello che fa Alan Moore due volumoni quindi che però non completano la serie perché dovrebbero essere teoricamente 36 capitoli più anche qui altre storie side quindi mi immagino almeno un altro volume e poi magari un altro volume anche qui compendium che contiene le altre storie che completano il mondo creativo però intanto i due volumi si potevano recuperare in sconto e quindi io ne ho approfittato continuiamo a parlare un po' di completismo e collezionismo ma anche di storie molto molto belle come vedete qui dietro sono grande fan delle edizioni definitive di Panini per quanto riguarda Marvel e come vedete però appunto lì dietro mi mancava Iron Man Extremis di Warren Ellis anche questa era in sconto anche queste edizioni una volta finite non tornano più era una storia che volevo leggere da un bel po' di tempo una delle migliori storie di Iron Man e allora ne ho approfittato per recuperarla edizioni che a me piacciono sempre molto le trovo sempre, devo dire la verità molto giuste, rapporto, qualità, prezzo e devo dire non ho grandi letture per quanto riguarda Iron Man non ho tantissime, non ho letto tantissimi fumetti per quanto riguarda Iron Man anche perché non è uno dei miei eroi preferiti a essere sincero però qui abbiamo Warren Ellis e abbiamo una storia che è considerata una delle migliori mai scritte sul personaggio e quindi me lo sono recuperato anche perché questo volume qui in sconto devo dire che è abbastanza vantaggioso e anche qua come dicevo prima per i grandi tesori Marvel una volta finito è finito quindi sconto più paura che non recuperi più me lo sono recuperato in questa volta così sono sicuro di averlo e anche di questo ve ne parlerò sicuramente a breve ho poi recuperato tre cofanettini molto molto succosi il primo è questo qui riguardante gli X-Men The Classic Collection all'interno contiene due volumi molto molto particolari il primo anche qui una delle storie più belle mai fatte per quanto riguarda gli X-Men ovvero Dio ama l'uomo uccide in edizione estesa questa è una storia di Chris Claremont che è difficile trovare in altre edizioni al momento e quindi ho detto sai cosa questo cofanettino mi piace molto lo prendo scontato ci può stare l'altro volume anche questo molto interessante un po' più celebrativo va a riscrivere il Giant Size X-Men ogni pagina diverso team creativo che va a ridisegnare questa storia questo albo fondamentale per quanto riguarda gli X-Men molto molto bello anche qui un'operazione ripeto celebrativa perché ogni pagina ha un disegnatore diverso e ogni pagina ha qualcuno che va a omaggiare gli X-Men e insomma devo dire che come cofanettino alla fine l'ho trovato piuttosto interessante soprattutto per Dio ama l'uomo uccide che ripeto al momento è un po' difficile trovare in qualche altra diversa edizione e quindi ho detto dai perché no cofanettino interessante non troppo costoso anche questo qui in sconto fatto molto molto bene non è della stessa edizione dei Giant Size ora vero mostrerò però devo dire che alla fine secondo me ne vale assolutamente la pena vi faccio la comparazione finché ci siamo con un altro acquisto questa volta qui invece Giant Size abbiamo Secret Wars faccio vedere al volo la comparazione di formato come vedete è un po' più piccolo questo X-Men rimane un po' formato comic book qui abbiamo uno degli eventi più importanti per quanto riguarda la Marvel degli ultimi anni abbiamo un evento che poi vedremo anche al cinema Jonathan Hickman come al solito ultimamente per quanto riguarda Marvel e anche qui Esad Ribic ha i disegni lo avevo già letto questa storia qui in una edizione un po' più economica non mi ricordo se erano spillati o quant'altro e ho detto ma sai ho già Secret Wars ci può stare secondo me per quanto riguarda gli eventi più importanti di casa Marvel questi Giant Size sono delle buone edizioni non particolarmente economiche per questo poi l'ho preso in sconto era un po' che giravo intorno ma ho aspettato apposta gli sconti per recuperarla però devo dire che fanno la loro porca figura in volume singolo con il loro slipcase secondo me in sconto ci poteva stare oltre a Secret Wars ho recuperato un altro eventone Marvel anche qui in Giant Size ovvero Avengers vs X-Men qua abbiamo una pletora infinita autori e fumettisti vi mostro davanti e retro sono molto belli questi cofanetti c'è poco da fare Jason Aaron, Brian Michael Bendis Ed Brubaker, Matt Fraction Hickman, Romita insomma abbiamo veramente di ogni a lavorare a questo eventone che vede i due supergruppi più famosi di casa Marvel scontrarsi ecco di questo non ho mai letto una versione integrale e quindi ho detto sai cosa? Giant Size e via andare queste versioni con cofanetto non sono sempre le quelle che apprezzo di più per quanto riguarda soprattutto le serie più lunghe ma per quanto riguarda i volumi unici devo dire che mi piacciono molto fanno veramente la loro porca figura in libreria se per quanto riguarda i normali volumi se così vogliamo chiamarli abbiamo finito arriva il momento del clou arriva il momento degli Omnibus che sono era quello il focus su quale mi sono concentrato per quanto riguarda questi recuperi perché voglio qua sul canale e anche ovviamente sugli altri social parlarvi molto di più di Omnibus visto che noto che qua in Italia ci sono veramente pochi contenuti per quanto riguarda gli Omnibus soprattutto per chi vuole addentrarsi molto nello specifico in una run in particolare e non sa da dove iniziare chi vuole approfondire un eroe in particolare e non sa da dove iniziare quindi per questo ho deciso di recuperare un bel po' di Omnibus in modo da parlarvene poi qua sul canale e raccontarvi per bene delle run proprio in intero visto che ero rimasto indietro con purtroppo il Punisher di Gar Tennis ho recuperato tutto quello che mi mancava quindi il secondo volume il terzo volume e il quarto e ultimo volume così ho completato tutto il Punisher di Gar Tennis me lo posso leggere tutta di una filata ci metterò probabilmente due mesi ma così ho il Punisher di Gar Tennis al completo qui c'è ormai poco da raccontare una delle run delle storie più importanti per quanto riguarda il Punitore qui abbiamo Gar Tennis accompagnato da diversi disegnatori lungo tutta la sua lunga run e secondo me per chi è appassionato di fumetto supereroistico però senza particolari superpoteri insomma il Punisher lo conoscete è un supereroe un po' più urbano molto più cruento con delle tematiche un po' più profonde e drammatiche insomma è un personaggio non vero e proprio supereroe è più un antieroe infatti e Gar Tennis nella sua run spinge molto soprattutto sulla parte di soldato che ha dentro di sé il Punisher quindi io a me sapete io amo profondamente Gar Tennis non ho mai letto nella sua interezza tutta la sua run sul Punisher ma ho letto solo alcune storie ben tornato Frank e altre qua invece abbiamo tutto intero i suoi quattro omnibus e non vedo l'ora di leggere veramente tutto perché deve essere una lettura molto molto interessante soprattutto nelle mie corde altro omnibus che mi ha sempre incuriosito di casa Marvel è il Silver Surfer di Dan Slott e Michael Redd una run che sembra essere molto innanzitutto il Silver Surfer è uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda il Pantheon Marvel e soprattutto questo sembra essere una run molto molto weird molto fantascientifica quel fantascientifico un po' particolare un po' strano tra l'altro questa la particolarità di questa run è che vinse un Eisner come miglior albo singolo che adesso vi mostro ed è questa storia qua che come vedete è raccontata su due versi quindi sotto sopra da una parte abbiamo la parte girata normalmente dall'altra parte è sotto sopra e la storia prosegue in questo modo per un intero capitolo bene questo capitolo vinse l'Eisner come miglior volume singolo miglior albo singolo perciò questa cosa mi incuriosito molto sembra comunque in generale una run molto molto particolare sia dal tratto grafico di Allred che ripeto ricorda molto quella fantascienza weird anni 60-70 ma sembra anche molto particolare in generale come run ne ho letto molto bene per quanto riguarda le recensioni in America ne parlano molto bene in America di questo omnibus e quindi ho deciso di recuperarmelo altro piccolo omnibus sempre di casa Marvel ma che non riguarda i supereroi classici Marvel è Supreme Power di Straczynski e Gary Frank un omnibus molto molto piccolino questo volume che parla della nascita di una generazione di supereroi in un mondo che finora non aveva mai conosciuto i supereroi mi aspetto una storia molto realistica mi aspetto una storia che va un po' a disgregare il mito del supereroe e sono molto curioso anche di leggere cosa ha fatto questa volta Straczynski che anche questo è uno scrittore che cerco di recuperare sempre il più possibile appena posso rimaniamo sempre in casa Marvel e mi sono recuperato due run che anche qua volevo recuperare da tantissimo tempo ma essendo due run belle e corpose ci vuole anche una certa spesa e gli sconti in questo caso capitavano a fagiolo e le due run sono la prima gli Avengers di Jonathan Hickman che si compone da due omnibus questo è il primo questo è il secondo due omnibus piuttosto corposi e bisogna essere onesti anche piuttosto costosi ma che raccolgono quella che è considerata una delle migliori run mai fatte sugli Avengers Jonathan Hickman mi piace tantissimo qualsiasi cosa faccia di solito a parte l'ultima gestione degli X-Men ma lì non è tutta colpa sua qua invece diciamo che gestisce la run nella sua interessa e quindi sono molto curioso di vedere che cosa ha fatto per quanto riguarda gli Avengers run che anche qui ho letto a Sprusti specialmente solo all'inizio poi non ho mai continuato nella sua totalità e quindi ora finalmente me la recupero nella sua interessa con i suoi due omnibus ripeto due omnibus belli cicciotti due omnibus che secondo me però valeva assolutamente la pena recuperare in sconto attualmente credo che uno dei due sia esaurito proprio per colpa degli sconti ma gli omnibus vengono poi pian piano ristampati quindi non vi preoccupate perché torneranno l'altra run sempre Jonathan Hickman questa volta Fantastici 4 anche qui due omnibus belli corposi anche qui una pletora di autori disegnatori che accompagnano Hickman veramente molto molto interessante anche per quanto riguarda i Fantastici 4 non ho mai letto tantissimo non sono mai stato particolarmente fan ma per quanto riguarda questa run promette di essere una delle run più strippate concedetemi il termine per quanto riguarda i Fantastici 4 un po' meno classicona un po' meno avventura fantascientifica stile Golden Age come solito sono i Fantastici 4 per questo ho scelto di andare a parte che anche qui volevo fare un bel recuperone per quanto riguarda Hickman ma anche per questo ho deciso di andare sulla run Hickman proprio perché volevo qualcosa riguardante i Fantastici 4 ma non troppo classicone perché conosco già i classiconi Fantastici 4 volevo leggere qualcosa che mi riuscisse soprattutto a tenere intrattenuto per quanto riguarda tutta la run quindi non è facile perché ripeto non sono particolarmente amante dei Fantastici 4 quindi mi ci voleva qualcosa che si avvicinasse un pelo di più al mio gusto come vi dicevo di tutti questi omnibus di tutte queste run ve ne parlerò nello specifico quindi mi raccomando continuate a seguire il canale perché arriveranno tanti contenuti per quanto riguarda queste run supereroistiche passiamo poi in casa DC Comics anche qui ho recuperato alcuni omnibus che secondo me sono veramente importanti e tra le cose migliori che sono state fatte per quanto riguarda DC Comics negli ultimi anni e partiamo con due bei volumi belli farciti del Batman di Scott Snyder una delle run più apprezzate e considerate fondamentali per quanto riguarda il pipistrello di Gotham degli ultimi anni Scott Snyder e Greg Capullo fanno una run bella sostanziosa e soprattutto fondamentale per quanto riguarda Batman considerata per l'appunto insieme al Batman di Greg Morrison una delle run più importanti da recuperare per quanto riguarda gli ultimi anni anche a livello estetico a livello di disegno a livello artistico abbiamo secondo me una run molto molto interessante due volumoni si conclude la run quindi neanche particolarmente lunga anche se il primo omnibus è veramente sostanzioso che il primo omnibus ve lo rimostro è di questa dimensione qui quindi bello farcito però anche qua io sono molto fan questa volta invece di Batman e questa era una run che mi mancava che dovevo assolutamente recuperare purtroppo ci sono tantissimi omnibus interessanti di Batman quindi ho dovuto un attimo decidere con grande sudore e alla fine sono andato su questo andiamo poi avanti sempre con DC Comics con uno degli eventoni anche qui considerati più importanti della storia moderna DC ovvero 52 dopo crisi infinita l'universo DC si ritrova ad essere senza i suoi eroi principali Batman Superman e Wonder Woman e qui abbiamo un anno di tempo scandito nei vari capitoli da Geoff Jones Graham Morrison Greg Racka e Mark Waid e quindi veramente un team di scrittori dalla qualità assoluta una delle serie considerate più importanti per quanto riguarda la moderna DC e qui sinceramente mi sono lasciato guidare dalle tante recensioni che abbiamo dall'America che ne parlano veramente molto molto bene per quanto riguarda questo omnibus anche qua abbiamo un omnibus particolarmente farcito bello bello grosso e sono curioso di vedere cosa ci aspetta anche perché ho già in seguito quindi quello che poi va a ricostruire l'universo DC ovvero Origini Oscure lì come volume da leggere quindi sto aspettando a leggerlo perché prima voglio leggermi i 52 e poi leggermi un po' la ricostruzione di tutti i vari supereroi DC arriviamo all'ultimo omnibus che anche qua ci ho girato intorno per diverso tempo finalmente me lo sono parlato a casa ovvero Animal Man di Jeff Lemire avevo già letto l'Animal Man di Graham Morrison anche quello poi ve ne parlerò come dicevo di questo progetto di parlarvi di tutti gli omnibus qui sul canale per completezza a questo punto mi pare giusto leggere anche una run molto controversa invece in questo caso in America una run che ha fatto arrabbiare molte persone in America io però sono molto fan di Jeff Lemire anche se devo essere sincero non sono particolarmente fan del Jeff Lemire nel mondo supereroistico però qui abbiamo un supereroe molto molto particolare che fa parte del mondo magico del mondo mistico della DC Comics e quindi non so ho detto diamogli un'opportunità anche perché voglio vedere proprio perché questa run è stata considerata così controversa in America e se ha diviso così tanto i fan tra chi dice che è un must have e tra chi dice invece che è veramente una serie brutta ma veramente brutta 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 quindi sono curioso voglio farmi una mia idea e anche di questo poi ve ne parlerò bene ragazzi ho cercato di stringere coi tempi il più possibile per non fare un video lunghissimo questi sono tutti i miei acquisti per quanto riguarda gli sconti panini come vi ho detto vi parlerò di tutti questi omnibus in singoli video quindi mi raccomando state sintonizzati qui sul canale youtube grazie per essere rimasti con me fino in fondo e noi ci vediamo alla prossima ciao